Mi trovo a Taranto 2, precisamente in via Lago di Pergusa. Certo che coloro i quali amministrano e hanno progettato questi marciapiedi andrebbero cacciati a calci nel culo, scusatemi la volgarità, perché le cose vanno dette, ma come si può realizzare un marciapiede strettissimo, rispetto al quale è quasi impossibile camminare, si è costretti ad andare praticamente lungo la carreggiata, anche perché qui vedete c'è questa recinzione in ferro con tutto quanto sporge in termini di erbacce, in termini di piante, in termini di tutto, di modo che in buona sostanza è impossibile poter percorrerla, è impossibile poter transitare. Guardate, si è costretti ad andare, ripeto, lungo la strada. Immaginate anche un passeggino, anche ciò dovuto alla presenza dei pali. Allora potrei capire questo lato, magari uno può dire ma i marciapiedi già c'erano. Bene, andiamo allo spartitraffico. Lo spartitraffico è stato fatto, realizzato con proporzioni, con misure strettissime, strettissime. Guardate, scusate ma una carrozzella come fa a transitare, a passare? E un passeggino come fa? E qui questi cretini che hanno progettato questo spartitraffico perché solo deficienti potevano essere, nulla di più. Guardate, allora io come faccio a un certo punto a procedere? Cosa faccio? Devo scendere, devo andare per strada? Perché mi trovo lo spartitraffico piccolissimo, peraltro insufficiente, ma mi trovo anche questo palo qui davanti. Quindi sono costretto a scendere, ma quando scendo le macchine vanno a tutta velocità e quando le macchine con doppio senso di marcia vanno a tutta velocità il malcapitato se ne va in aria, prima viene sbalzato in aria, poi sbatte sul selciato e poi probabilmente se ne va in paradiso o all'inferno in base a come ha vissuto su questa terra. Guardate, non dico una chiacchiera perché qui se io sto camminando con un passeggino io necessariamente devo scendere, ma quando scendo mi imbatto nelle macchine che peraltro scorazzano anche. Ecco il modo, allora uno dice vabbè lì di fronte stava così e va bene, anzi va male. L'erbaccia che sporge, le piante che fuoriescono il tratto di marciapiede impraticabile proprio perché si restringe ancora di più, di fronte, realizzati da poco, stessa schifezza. Ma qui nessuno controlla? Nessuno controlla, i lavori pubblici non controllano? Ma qui a Taranto come funziona? Che ognuno fa i cazzi propri, scusate la volgarità, perché io cerco di essere tranquillo, però poi scusate quando mi viene mi viene, quando ci vuole ci vuole, perché questa Taranto è diventata terra di nessuno, terra di nessuno, una terra di incapaci relativamente a chi progetta e poi i danni, a piangerli, sono i poveri disgraziati che abitano qui. Intervenite, intervenite. Guardate, io che sto facendo ora, sto parlando, io se minimamente sgarro di 10 centimetri, io mi ritrovo a essere sbalzato chissà dove. Peraltro in quest'area le strisce pedonali sono praticamente inesistenti, inesistenti, nonostante le PEC, le sollecitazioni dei cittadini e qui all'incrocio, all'angolo di via Etolia con via Lago di Pergusa, i cittadini hanno chiesto, per evitare incidenti, che venisse installato uno specchio parabolico. Hanno fatto decine e decine di richieste alla Polizia Municipale, come si suol dire, manco per l'anticamera del cervello, né strisce pedonali e né specchio. Assessore Ciracci, assessore alla Polizia Municipale, ci diamo o non ci diamo una mossa? o dobbiamo andare ai funerali delle persone che verranno travolte? Che schifo, che schifo! Questa è la rinascita di Taranto, questa è la rinascita che il sindaco Melucci sta seminando.